I got the horses in the back, or stock is attached, head is mad and black, got the boots is black and mad Ciao ragazzi, oggi è un nuovo video e oggi ragazzi non faremo niente ma voglio farvi sapere che questo è il mio canale dove faccio i video sul forno e mi raccomando passateci insieme a Carlo che ha due iscritti per ora, ha due iscritti per ora e la testa per oggi e mi raccomando passateci perché qui farò un video di format, quindi passateci e ho detto questo